è l'ultimo giorno del mese di ottobre abbiamo iniziato il mese mariano il primo ottobre insieme a maria con una devozione particolare ritrovandoci tutte le sere a recitare rosario insieme a voi grazie della vostra partecipazione vediamo che siete in tanti che abbiamo pregato insieme ci siamo affidati a maria abbiamo affidato anche i nostri cari la nostra diocesi le nostre città tutti sotto il manto della nostra madre santa la situazione ci sta preoccupando ma andiamo avanti con impegno noi siamo qua pronti ad ogni nuova iniziativa se ce n'è bisogno con questo sera con questo rosario dell'ultima sera che anche un sabato sabato è il giorno della madonna e vi saluto vi saluto continuiamo a pregare ognuno secondo i suoi modi secondo la sua suo tempo la sua organizzazione della giornata continuiamo a pregare il rosario rosario è la preghiera che affronta tutte le avversità ci dà una grande pace è un balsamo dell'anima è una forza che è capace di cambiare il mondo davvero buonanotte grazie maria vi protegga grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti